Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Sono 5.919 i casi positivi al Covid registrati tra il 19 e il 25 novembre, pochi in più rispetto alla settimana precedente, quando invece erano stati 5.697. E aumentano anche gli attualmente positivi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra invece 12 nuovi casi, di età compresa tra 73 e 97 anni, e sale a 3.757 vittime da inizio pandemia. Ci sono stati inoltre 4.416 altri guariti in regione. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono invece 16.311, 1.491 in più rispetto a venerdì scorso. Cresce anche la pressione sulla rete ospedaliera, in particolare 182 pazienti, più 3 rispetto alla scorsa settimana, sono ricoverati in ospedale e in area medica. 6 più 1 rispetto a venerdì scorso in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nell'ultima settimana sono stati eseguiti inoltre 5.105 tamponi molecolari e 30.286 test antigenici, con il tasso di positività al 16,7%. Dei casi positivi di questa settimana, 1.305 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 1.550 in provincia di Chieti, 1.484 in provincia di Pescara e 1.430 in provincia di Teramo.